eccoci eccoci qua eccoci qua ben trovati signore e signori gentildonne gentil uomini di tutti i tempi io sono fabio meson e questa è la meson botania un vero piacere un vero piacere essere ritornati in questa bellissima terra dove oggi andremo veramente a farmare qualche diamantini e qualche smeradino avevo già cominciato poco fa solo che abbiamo avuto qualche problemino di connessione vediamo se riusciamo a recuperare altrimenti credo che dovrò siccome ho installato la optifine però mi sa che è troppo pesante per le mie per il mio diciamo setup e quindi vediamo 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 cosa succede vediamo cosa succede stavo vendendo per l'appunto un po di carne e marcia perché ci siamo dimenticati di farlo gli ultimi giorni dell'anno ne abbiamo parecchia e siccome ho bisogno di parecchi smeraldini allora ho detto approfittiamone e cerchiamo di farmarne più possibile ho creato altri villager diciamo chiarici in maniera tale che possiamo avere più più zone dove andare a vendere e così senza fare troppi ride senza troppo agevolare disconti perché non è che ci interessano più di tanto e prendiamo a prezzo diciamo normale a prezzo normale sempre se ci riesco perché non riuscivo a interagire col villager eccoci qua tra l'altro mi sono costruito un bellissimo tridente con channeling infatti stavo aspettando proprio la pioggia che tra l'altro è appena passata per provare a recuperare qualche testa di mob siamo dimenticati vedi che ti anche c'è anche il cielo lì sa che devo togliere un po di roba forse che io adesso con sta optifine qua non ne capisco nulla quindi se per caso qualcuno ne sa più di me mi potrebbe guidare mi farebbe un sacco piacere altrimenti altrimenti passeremo torneremo alla opzione normale allora come se ammessi qua adesso almeno mi dà che sono connesso abbastanza bene al server co abbiamo un'altra carne marcia però vedi che non è proprio così veloce nella pirmini che box questa cosa mi fa un pochettino preoccupare molto va molto lenta sta cosa no non va bene non va bene bene allora avanti eravamo rimasti che questo mi sa che ha concluso tutto quello che aveva da darci anzi no buon pomeriggio a lei buon pomeriggio a lei caro soft buongiorno buongiorno come va come va come va ok molto bene è che poi loro tra di loro parlano e quindi aggiungono anche diciamo la quantità disponibile di roba buon lavoro buon lavoro carissimo buon lavoro caro caro poco soft vero vero onore che lei sia passato a salutare molto gentile molto gentile le auguro un buon lavoro proseguimento di giornata ok alte 32 32 si sarebbe figo portaci a casa due grazie grazie mille non posso dire a lei altrettanto la stessa cosa però glielo dico comunque buon divertimento anche a lei dai un divertimento anche a lei e con questo dovremmo aver concluso praticamente questa shulker vediamo se riesco ad aprirla tutto un lag mannaggia la madonna è tutto un lag ma dobbiamo mettere modem fuori dalla finestra forse quando abbiamo ancora quel cosina ricordiamo scriviamo anche tutti quelli nuovi da inaugurare quindi tanta roba insomma da qua non sono da te caro non so che nome tu abbia però vedo che sei già pronto a comprare e ciò mi fa molto molto piacere smeraldi uno degli item ma anche più rari volendo trovare in natura si intende sono online dopo le 19 e 30 passerò in game volentieri 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 sì perché devo capire sta cacchio di otti fa in qua non so se sta facendo bene o male ciò tempo vediamo anche antonio salve antonio bellissima schiena che sta facendo che sta fa sto andando a recuperare un po di dismeraldica l'antonio più che altro un po di carne e marcia allora questo 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 posso mi dà mi dà il suo permesso antonio di farlo sì spero di avere il suo permesso se vuole anche lei guardi ce n'è per tutti con di raccogliere carne di fare trading fare un po di trading di carne marcia e scambiarla con gli smeraldi molto bene raccogliamo ancora un pochino di questa cosa ne abbiamo per tutti è veramente tanta tanta da mettiamo già giù la nostra bellissima shulker box e ce la riempiamo fino al limite fino al limite fino a farla straboccare straboccare si dice si può usare il termine straboccare nel 2024 si è già piena ma ti rendi conto guarda quanta roba sapevo io dovevo farlo sto lavoro troppa roba troppa troppa roba anzi lasciamoci uno spazzetto vuoto qua sto mangiando carne di pecore ne abbiamo cucinato un po troppo per l'ultimo dell'anno e quindi esso s esso s allora vediamo dove siamo rimasti qua è strana sta porta dio caro ho fatto io c'è mica adesso incolpando nessuno l'ho fatta io ecco nemmeno mettiamola in fondo su giro ma no tu no e lei doveva con quel blocco di smeraldo in mano dove arriva questo blocco di smeraldo grazie non c'è neanche spazio nell'inventario è andato molto bene è andata molto bene allora antonio io lo so che è una brutta roba quella che le sto dicendo però purtroppo la farm di pecore colorare la farm di lana non funziona più sono anche scappate un paio di pecore che trust purtroppo le ha uccise per sbaglio se lei fosse così gentile da aggiustarla noi noi tutti le saremmo molto grato altrimenti grazie lo stesso adios ecco toccato adios qua abbiamo il polletto che sta facendo breakdance stava adesso si sente un po più sente un po osservato tu mangiare vuoi tutte andiamo avanti la nuova farm di ride non ho capito per quale motivo ha smesso di funzionare mannaggia meno male che l'ho un po sfruttata appena appena costruita qualche qualche totem qualcosa non sopportato a casa meno male va bene rifaremo la rifaremo ne rifaremo un'altra e ne abbiamo parecchia di carnetta qua senti senti come sono esaltati i nostri amici senti senti non possiamo far uscire ancora importante che escano e che abbiano cioè che prendono il lavoro di credito chiarico e non di altro che capissero a lei l'ho venduto già la roba bene facciamo uscire altri tra eccoli 1 2 e 3 ops non volevo non volevo far di te il male allora come siamo messi qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a chi è chiedendo adesso uno qua dentro no questo non compra ne abbiamo mica di nuovi qua e non vuole non prendono un lavoro si con noi che succede e la buongiorno buongiorno jd ben trovato buon pomeriggio perché non prendono lavoro questi per quale assurdo motivo non prendono lavoro va bene a te possiamo vendere va già finito ho già finito le risorse che bel tramonto ma si un po cambia il discorso con opti fine un pochettino forse anche neanche non so non so mi sembrava che dietro fosse trasparente adesso non è neanche neanche più trasparente in realtà dietro comunque anche il cielo con le nuvole così è che mi porta via un sacco di risorse però vale che figata di tramonto wow wow ma stiamo laggando adesso lei jd che ha un occhio vigile e attento secondo lei stiamo laggando in questo preciso momento va bene buttiamo fuori altri bravo è anche quella cosa che ti fa zoomare solo che io non mi ricordo più la sequenza di tasti per fare lo zoom e fino a poco tempo fa ero munito di cannocchiale e non so neanche più dove ho messo il mio cannocchiale sinceramente ma lei jd ha conosciuto antonio no non vi siete mai conosciuti però antonio deve sapere che jd è un vecchio è un vecchio player di questo di questo server antonio antonio sì sì facci facci antonio detto il faro non conosco antonio detto il faro o più in inglese ancora antonio detto beacon antonio detto beacon questo mi fa pure lo sconto va che roba è una leggenda antonio detto beacon non che jd detto jody non lo sia eh per gli amici più stretti jesus schiacciaci che è schiacciaci che è schiacciaci che significa c'è sta dici c'è sta dici a per lo zoom vediamo cos'è schiacciaci c'è ma che cagata ma anche lei usa l'optifine vabbè che adesso sto caricando 5 chunk ma anche lei usa l'optifine antonio comunque l'optifine è una diciamo versione di è diciamo un insieme di estensioni per quello che ho capito io per poter giocare a minecraft a minecraft e avere varie molte più opzioni ecco livello anche di impostazioni di grafica e quant'altro si possono mettere anche le scelte robe del genere capito solo che non capisco perché i vetri adesso ancora li vedo come non li dovrei vedere vabbè fa niente ma lei usa le shaders antonio a parte che dice se metto le shaders io qua il pc esplode comunque sia quanto pare oh la ci siamo un po' ripresi no ah infatti anch'io a parte che non ho neanche visto come metterle però ho visto che c'è la possibilità di metterle è che non son capace a tonio ho detto sorgente di luce come mai detto sorgente di luce bravo si esatto si anche anche con le sorgenti degli altri però fa luce con le sorgenti degli altri io so mertele non ho capito anche in italiano lo può scrivere se vuole se vuole capisco non sarà il miglior client perché c'è la luna però si sta sì no vabbè la luna c'è sempre c'è la luna il sole ci sono sempre però magari così vengono un po' modificate non so non so ci sono parecchio ah luna ah ok perché c'è luna ok 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 tutte le pecore sono scappate e se intende dalla farm non tutte ma tante ma poi un certo punto c'è il meccanismo lì non funziona proprio più eh ma il meccanismo non funziona più io non capisco c'è poi che ci sono stato anche un po' dietro nel senso ho cercato anche di mettere sempre le i rasoi e quant'altro ma non funziona più niente si conosco lunar client me l'avevano me l'aveva suggerito nessun Ezio e ho provato a installarlo però non ci avevo capito niente all'epoca mi prendeva un sacco di spazio e robe del genere eh no non è che non ci sono le cesoie le posso garantire Antonio che anche quando mesi le cesoie queste non c'è non andavano non andavano più non c'è ci siamo sputtanati tutti tutto qua sì sì no ma loro non c'è non non funziona più le posso garantire io che qua non funziona più niente qua non c'è vabbè può essere che lì non c'è qua dopo trasta ho ucciso due pecore qua non ce ne sono poco più se vuole io le pecore ce le ho adesso da portare fino a qua Antonio ora guardo io se vuole io le posso portare le pecore perché ce le ho vado a prendere qualche pecora ok ok andiamo a prendere qualche pecora sì perché è un vero peccato avere la farm che non funziona e l'ho usata tantissimo io le lana di quella famiglia e vorrei continuarlo a usare ma neanche babbo natale ha visto lei Antonio ma lei non ha visto nemmeno il villaggio di babbo natale Antonio o si o si molto bene prendiamo un po di grano ah l'ha visto bene bene finalmente siamo un po senza larga allora le pecore le pecore nuotano secondo voi lei si usa lunar client ma speriamo speriamo che nuotino no ma lei gioca ancora a minecraft ecco una è questa intanto ecco una è questa intanto guarda me basta prenderne due dopo la le dupliche le duplichiamo vicino alla farm ma dai quello da telefono com'è che si chiama? cioè ha un nome? sì che ha un nome qua ce ne pure una rosa eh adesso le porto tutte quante la la sui monti con annette dove il cielo è sempre blu la concedie con Antonio vieni vieni anche tu pocket dick edition ecco lì no quello lì se non c'entra niente c'entra niente v4 si io vi do già da mangiare diventate già sei praticamente mi seguite in sei poi colore lo cambiamo questa farmace ho lavorato tante ore si ricordi che l'è fatto una rotto ma è stata rotta lì è stato manomessa dice qualcuno ha manomesso eh lo so che si è lavorato tanto io l'ho sempre usata cioè con il cuore questo che stai giocando tu e ti lancia non è proprio eh vabbè ok mentre quello da telefono si ha capito io non riuscirei mai a giocare da telefono mi sa poi è tutta una questione di abitudini in realtà eh ci mancherebbe ah che ho fatto esplodere io per sbaglio si ma cioè poi l'aveva messa a posto c'era era giustata e lì non capisco se manchino dei pezzi sinceramente non capisco proprio dai venite di qua pecorocce sotto c'è di tutto sì ho detto un giorno volevo addirittura rifarla quella farm lì proprio nel punto in cui sono andato a prendere queste pecore qua quello proprio però è un peccato alla fine se c'è già basta mettere un po' a posto quella lì sistemarla eh i villager ci sono in giro i lasci li lasci pure là li ho portati io da quella parte da i villager le pecore nuotano sì anche le più piccoline anche le più piccoline nuotano sì infatti io ogni tanto faccio qualche screenshot si sa mai si sa mai ok proviamo venite venite ora l'aggiusto io ottimo e io vengo a vedere vengo a capire il discorso dei colori che colori mancano come al solito infatti su questo ti lancio hanno trovato dei file anche non troppo belli in che senso venite 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 pecorelle segui mi seguissero mi seguissero mi seguissero cambia tutto antonio adesso io non so lei come ha messo le impostazioni in giro di quelli da però so tutto su sì ho impostato su sì poi la grafica ce l'ho normale devo ancora provare con la grafica spettacolare pensate e si va bene va bene ma lei non si preoccupi non va benissimo va benissimo eh sì tutti quanti ne commettiamo jd è un po tutti purtroppo sì ahimè vero peccato è anche dice che dice trasporto di pecore durante la notte di fatto potrebbe essere un reato gravissimo condannabile mesopotamia assolutamente come l'anno della fame queste pecore poi alcune se ne vanno pure non è necessario mettere eh no no sì ma non è necessario oggi di mettere i puntini sulle ira ringrazio molto molto vero peccato però 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 esto es esto es antonio antonio hai capito proprio dice prendiamocene col guinzaglio facciamo molto prima in effetti cazzo sarebbe stato un bellissimo prank questo qua eh comunque lei ha una pecore rosa piccolina più quella grande difficile da trovare poi pure quella piccolina eh sì no ma gli ho dato io colore rosa le ho colorate io per questo ce l'ho io ce l'ho colorata io non l'ho trovata in natura so che è rara la pecore rosa in natura però non l'ho mai trovata in me questo antonio è partito con due pecore proprio scammato male eh sì partito con due pecore antonio e via dio dai pecorolle voi lo sapevate che i guinzagli si possono craftare lo sapete sapete qual è la ricetta per craftare i guinzagli adesso le piccoline non riescono manco salire forse e come salgono io sì dice antonio non esiste eh sì caro jd anche io pensavo di no invece i guinzagli si possono craftare caro jd se vuole le dico la ricetta altrimenti rimanga nel dubbio io lo so da tanto no io lo so da un mese due non da tanto tanto io lo faccio vedere se vuole jd anzi vado a cercare che c'è uno short sul mio canale dove faccio vedere proprio come si craftano se non ricordo male a proposito mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un dislike un commento un insulto attivate tutte le campanelline ma soprattutto ricordatevi di splendere anche le tonia giocava da telefono prima l'ha trovato e vede che esiste vede che esiste no io del telefono ho giocato a snake giocavo un piccolo gioco era due di tipo che due di due bit che ne so io sul nokia nessuno ne parla no ma in effetti non è che sia una roba è una roba che o la sai 1 6 però io prima di sapere sta roba qua una cosa ha preso ma dai e questo mamma mia che brutto che brutto si o la conosci o la è o non la conosci ma dove stanno andando le pecore perché se ne vanno di qua io sai quanti mercanti e cammelli ho come dire ucciso per avere i guinzagli perché non sapevo si potessero craftare una marea su bedrock non lo so su bedrock non lo so ma dal telefonino si gioca in bedrock lei del telefono gioca in bedrock su telefono ho capito ma qui di bedrock è solo per telefono tipo oppure c'è anche la versione bedrock per pc io non ne so molto anzi anche da pc ok siamo arrivati con qualche pecorezza che dice antonio ci abbiamo fatta io non capisco non capisco se tutto tutto regolare qua perché io sono stato anche 20 minuti un'ora una volta aspettare che ricrescesse l'erba non è più ricresciuta capito vero peccato guardi sotto vabbè sotto ci sono i nostri amici villager sono le pecore che mannaggia a me ma hanno seguito è che io non so come funziona il meccanismo appena compri minecraft sia java bedrock ti da gratis l'altra versione quindi se la compri java ti da gratis bedrock e viceversa ma dai non lo sapevo non lo sapevo mancavano i carnelli forse ma dai non lo sapevo sta roba poi alla fine costa nemmeno ta ma costa 10 euro tipo roba qualcosa del genere 20 10 euro lana blu lana blu va qua a 30 ma dai pensavo di meno pensavo di meno oh no gdna è stato ucciso da questo bastardone vorrebbe uccidere anche me ma troppo c'è vede anche qua mancano tutti i distributori tipo cosa sono questi no osservatori l'ho ucciso e si si è permesso di farle del male antonio molli quell'alco infatti anche a me sembrava che costasse tanto di meno minecraft poi boh dipende ma ci sono versione versioni normali speciali quindi già potevamo portarlo giu nel museo No laborarie mi sono fatto prendere della devastating a cor normale oh my god no oh no abbiamo spaccato tutto a per pc mac costa 30 euro del sito ufficiale non so io so se perché costasse meno è la versione per xbox che non dobbiamo confondere seconda volta stavolta non è stavolta non ho fatto apposta io però sì sì no infatti cioè rispetto a molti altri giochi che costano molto di più costano molto di più sicuramente considerando che si gioca per ore e tutti i giorni non si muore per 30 euro che pulpito c'è il parlo di me dico no ma che speso 70 euro per diablo 4 ci ha giocato cinque giorni dice proprio sotto ecco mi ricordo sì che si era un attimo infattuato di diablo poi bastano deciso che non faceva per lei vabbè io antonio vado a vendere ancora un po di carne poi tra poco torno a vedere a che punto sta intanto poteva portato sicuro le pecore che fammi vuole sparare molto difficile diablo si ma anche minecraft è molto difficile dipende dai punti di vista anche minecraft è difficile ma io la stufa l'ho accesa non so neanche se ho acceso la stufa che questo grano in per il momento possiamo un attimo da porlo qua anche questo e prendiamoci un paio di shulker ancora che sono vuote vorrei sparare però mi trattengo di cento anni grazie grazie anch'io io vorrei farle vedere come si fa 1v1 lol c'è 1v1 ma intrattengo allora torniamo a destinazione minecraft se non lo conosce molto difficile ovviamente senza wiki e aiuto beh sì in effetti anch'io se non ci fosse stato tipo popo soft nessun ezio mentre muovevo i primi passi qua su minecraft ci avrei messo la vita a imparare le basi proprio le basi proprio agli inizi non sono stati semplicissimi proprio per nulla tornerò più forte di prima dice antonio me lo ricordo me lo ricordo il suo motto ma io ci credo io ci credo anche perché nacque come un gioco molto semplice dieci anni fa e poi col tempo si è complicato parecchio vedi hanno aggiunto un sacco di robe hanno aggiunto poi figo perché volendo ci sono anche un sacco di mod varie è un mondo un mondo mondo debè i denti ha blu e ha blu 3 era una stupidaggine in single player diavolo 4 quasi impossibile senza guida pensata ok prendiamo anche questo io mentre gioco bevo il tè caldo attenzione non rovesciare il tè sul la tastiera ma è successo ho cambiato tastiera easy easy way trovare i mob e miliardi di blocchi di siti si sta vabbè è certo però c'è una cosa mi sa che ha semplificato molto e non so se sia nella prossima versione o se sia già tipo una roba implementabile discorso della della redstone di tutti i circuiti un blocco che ha semplificato molto e o semplificherà molto vari circuiti adesso non ho capito mamma mia ho visto la tua foto sei troppo bello gli spompini grazie grazie ma stiamo formando parecchio parecchi smeraldini comunque ho una marea di giochi da iniziare a casa comprati con tanti tanti soldi ma sono giochi che ha su steam oppure che ha magari anche i fisici cioè esistono ancora i giochi fisici per c per pc 3 euro su michael sono totalmente giustificati anche se lo riprendi tra un anno durerà sempre sì vero è vero questi il lavoro di lavorare non ne vogliono sapere un po come me tu sei ancora bloccato anche fisici per xbox e play e per pc no per pc no se non esistono più i giochi 15 di licenza neanche più i lettori cd su pc in effetti io sento che c'è qualcuno che mi continua a sparare o mi raccomando antonio e se mi ammazza un villager sono cavoli amari attenzione salve meno male qualcuno che si è sbloccato oggi ho dei giochi cd anche per pc ma adesso io diretti poi so per un paio tra ok ma io dico adesso ne fanno ancora c'è ne si esistono ancora giochi per pc c'è fanno ancora la versione in cd per giochi di pc attuali o ne vendono ancora allora giochi degli anni 90 che sono ancora tolissima ma io ci giocavo all'uno age of empire credo che esistono solo per le versioni della collezione ma dai ma dai io ci ho passato giorni e notte su age of empire 1 che bel gioco caspita che figata di gioco ormai tutte ormai le vendite sono tutte digitali a se siamo bene o male così è così possiamo accettare possiamo perché la discussione da prigia riguardo però così è tutto il digitale che la fi bravo 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 eh no eh no ziti basta universal tonico se ne ride finiti i tempi di universal caro caro ziti torneranno eh perché torneranno ma sotto mentite spoglie ho trovato uno sconto su cd case per minecraft java l'ho passato a fabio via tele ma grazie io non ho neanche tele ma adesso aperto con me perché dovrei cioè sarebbe meglio che lo acquistassi se l'aggo di meno e la smetta di spararmi mannaggia che fa o e ora via non si laga di meno per smettere di usare quello schifo iti lancer ma fa schifo city lancer io non posso recuperarlo a nulla perché in effetti c'è non ho avuto modo di vedere altre versioni capito cd reference in che senso non ho capito cd come lo pensino per fine lo consiglio perfino malware ma dai ma non lo è realmente meno male come il massimo della vita hai capito noi siamo poveri dice io sono povero niente fabio 17.19 euro insomma è la metà di 30 praticamente quasi e se l'hai tutta la vita immagino adesso per sempre come un diamante per sempre ho già finito ho finito tutto io qua è quasi 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 come sta andando alla farm di lana antonio lifetime non si paga al mese al nostro gioco beh già meglio mi fa stiscarsi salve aiuto antonio per tiscarsi nella farm farmi di lana non mi dica non mi dica che non le serve aiuto prendiamo due ne riempiamo due cosa dita sono rare gli scarsi dice autoproclamato tra l'altro ma no ma fa bene lei si dici mancherebbe fa benissimo ste robe qua che sto usando io così sono robe da poveri proprio da poveracci allora appoggiamo stisti tre pezzi qua e poi ritorniamo a fare razzia alla farm di oro torniamo a far razzia alla farm di oro questi li appoggiamo qua tutto pieno anche qua ci riempiamo due di queste questi smeraldi ritengo divisi che così vediamo alla fine poi del tempo quanti ne abbiamo anzi ritengo qua ritengo qua ma è entrato qualcuno volete che ci andiamo a piedi alla farm di oro facciamo un giretto a piedi abbiamo che si fa con la canna e marcia e non vede che la sto scambiando con gli smeraldi non vede che la sto scambiando con gli smeraldi la trasformi smeraldi calo jd capito per forza ho sentito un brutto rumore fabio qual è il brutto rumore mi perdoni che tipo di brutto rumore rumore dell'accendino business man dice l'atto esattamente esattamente un rumore che io non vorrei mai più sentire invece eccoci qua schiavi io sono la farm di pecore io sto andando un attimo qua a prendere ancora un po di carne marcia poi arrivo questa palude del nether che ci accompagna fino sopra il tetto attenzione attenzione presa perché nelle giornate si stanno iniziando comunque ad allungare del che è molto positivo molto bene stiamo andando verso la bella stagione dai siamo come appena arrivato l'inverno è amata non ti preoccupare che l'inverno lentamente sì lentamente ma ci stiamo andando ci stiamo andando inesorabilmente pure mamma il ghast ma che ci fa il ghast qua tra l'altro un giorno stavo farmando oro qua sopra e mi è spawnato un ghast sopra cosa impossibile se non me ne accorgevo caspita mi spaccava tutto ciuccio ecco il pezzo di nether lì è diventato più che l'amazzonia si è stato forestificato sa allora qua ne abbiamo parecchio da prendere si fa un danno alle farm di pegole paga 5 diamanti ma la sta aggiustando si sta mettendo a posto dobbiamo avere 17 pecore in totale non se lo dimentichi antonio si 17 devono essere sega un pezzo di nether giorno e notte giorno e notte 24 ore in funzione proprio quella roba di proprio quella roba di molto bene riempiamoci le nostre saccoccia che ce ne fai della carne faccio i smeraldi gli smeraldi mi servono per vari progetti anche per acquistare altri beni ma anche per altre robe due 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 scherzando e fra dieci giorni circa no tra un mese siamo già quasi a due anni che ci conosciamo più o meno molti di voi sono cresciuti con questo canale se non guardo lasciate che escono gli di cosa ho riscattato direi che sei uscito da una piazza di qualche città tipo bologna si infatti quasi due anni sono tanti due anni non so anche pochi intorno dice si è sì antonio due anni due annetti a dos anni ma anche se la guardi lasciata perché non tutti conoscono in realtà questi tipo giorno e notte l'ora esatta c'è solo beh dico da boomer ma quasi insomma ok boomer ok boomer queste cose non serve neanche quando sono arrivato io se no infatti c'è infatti ho perso una shulker meno male che no aia so caduto ma chi c'è qua sono i fantasmi raga per favore non piazzare blocchi neanche l'avessi scritto sollevato gli alberi ma quali alberi mi perdoni che alberi scusi che alberi ha levato immagino se morivi se no infatti c'è poi avremmo avuto una clip da aggiungere buonasera alessandro zen all'inizio all'inizio di cosa che alberi viene come va come va alessandro come va ora che casino che hai qua antoni siamo ci rendiamo conto qual è una foresta non si ricorda avevo messo io qualche alberello forse adesso c'è un casino tutto cassino qua contrasta stavamo addirittura pensando di to di rimuovere tutto anzi devo dire la verità io io un giorno ho detto trust io qua adesso levo tutto tanto antonio non torna più voglio comunque lei quando sta per morire dicessi tipo un bradico eh ma perché qua siamo in mesopotamia dovrebbe vedere quando giochiamo in alcor qua togliamo tutto capito qua bisogna bonificare tutto antonio tavola rasa esatto no che fa o alcor come mai lei è morto come mai lei non è morto il primo giorno ne abbiamo fatte tante serie alcor ecco la risposta in realtà ne abbiamo fatte tante proprio perché le prime sono morto sono morto parecchie volte in realtà adesso pian pianino ho capito un po come fare quindi mi dedico alla costruzione di un impero ancora non si sono sbloccati sti qua niente sto cercando di farmare più smeraldi possibili così approfitto anche di fare un lavoro che avrei dovuto fare prima della fine dell'anno ovvero eliminare tutta la carne marcia dalle varie farm e siamo presi un po tardi pure sai giocare adesso siamo io adesso sono mi definisco quasi un pro player quasi un pro player in survival ovviamente non a fare speed run o roba del genere però in survival sì caro gd io sfido chiunque costruire tutto quello che è stato costruito ma parte che non ho costruito io tutto però insomma poi ci sono questo qua il server che ha più farm assoluto cioè tutta italia credo c'è imparato io alcune cose questo server questo tempo sì anche antonio il tassello fondamentale possiamo vederci vediamo con paris esatto 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 esattamente comunque dai ne stiamo fermando 5 stack in un'oretta non è male vuol dire dieci stack in due ore forse abbiamo ancora troppi pochi che la e chiarici a parte che non capisco perché alcuni non si sblocchino faccio un gatto annuncio le visioni come vi lascerò giocare doveva doveva popo soft a più tardi a più tardi no è proprio vero che non si finisce mai di imparare su minecraft ma come ormai cioè quali sono youtube stream l'italiano che ha vinto minecraft di 14 minuti che ha finito ma 14 minuti io conosco un altro che si chiama ennesimo mi sa che l'ha finito in 13 qualcosa buon lavoro buon lavoro proprio soft non so se avete presente ennesimo mi sa che lui il suo record da 13 è meno di 14 paris lo conosco solo per nomina diciamo ennesimo gg esalti proprio cioè non il cg e immagino sia un'esclamazione da parte sua comunque è proprio ennesimo si si lui fa le speed run su youtube abbia tu finisci minecraft in 12 basse se mi impegno si forte che c'è qualcuno l'ha finito anche in due minuti però io non capisco sta roba adesso non so paris però ennesimo chi fa le speed run in realtà c'è prima di cominciare a giocare continuano a caricare e ricaricare mondi in attesa di sponare in una bioma cioè dove praticamente abbiano tutto quanto lino più tutto con tutto comodo è un po strana sta cosa cioè non dovrebbe farlo casuale utilizzando un mondo casuale diceva bene e se non c'è deve esponare proprio dove c'è questo dove c'è quell'altro se non praticamente continua a ricaricare a volte c'è stanno ore solo per selezionare il sì il gioco se genera continuano a generare mondi a caso finché già nei primi due o tre secondi si rendono conto che se vale la pena continuare o non continuare ma per me è un po strana sta cosa molto strana molto per capire subito lo spawn perfetto perché minecraft non è solo un mondo uguale a miliardi anzi finiti si sia proprio quello che sto dicendo io però se uno c'è adesso io mi viene pensassimo vuole fare un record lo può fare anche senza per forza beccare lo spawn perfetto capito perché diceva beh ci sono buoni tutti no non se non è vero che sono buoni tutti a beccare lo spawn perfetto e dopo di che però non so cosa è strana ho capito sì che proprio per questo motivo qua però fammelo normalmente va bene ci si mette un po di più capito io vediamo se si è sbloccato questo lo sta qualcuno mi sono scappati sono stati fatti uscire un disastro tu sei inutile come la zanzara praticamente ma certo certo che fanno la differenza anche un secondo in più probabilmente quindi il record non è di minecraft cioè di speedrun non è basata su minecraft sul finire minecraft ma è basata sul finire minecraft arrivo antonio utilizzando uno spawn perfetto cioè capito invece c'è nessuno che finisce che fa tipo le speedrun senza cercare lo spawn perfetto ecco questo sarebbe più dica antonio mi dica ma che è successo qua perché ha fatto tutta sta io non posso prendere tutta sta roba ma che è successo qua che fa questo non fa antonio ma porti magazzino tutta sta roba perché la brucia scusi è tutta roba che poi che può essere utile in magazzino niente brucia tutto bravo complimenti quello ma è un magazzino tutte le ceste si no ma sono sono sue è roba sua ma non capisco perché sta bruciando tutto ma che perché sta bruciando tutto si vuole tempo e che tempo perché tempo 10 minuti aveva portato tutto mannaggia vero peccato ma lei scusi sta roba non salve a lei non serve tutta sta roba ora brucia anche le dita no ma la cosa è la cosa l'armatura d'oro ma perché che sta a fa si sta ribellando antonio ma perché sta facendo sto così perché non no che è ma ce l'ho io l'accendino ce l'ho ce l'ho l'accendino vede ora brucia anche le dita grazie guarda che bel tramonto guarda che figata di tramonto raga si goda questo tramonto antonio ecco non ne voglio chi cosa non ne vuole vabbè che fa mi spara pure ma io non capisco perché ha buttato via tutta sta roba che vorrebbe buttare via tutta sta roba un vero peccato un vero peccato antoine vabbè vediamo qua si è sbloccato poi la situazione no da questa parte qua sì ma non è che per fare spazio deve cioè bruciare la roba mi scusi ma lei non prenda la lettera ma è sempre quello che dico tu ti sei sbloccato no quel che to dormiamo un pochettino che fa seguo il gatto adesso ciao amici allora adesso fino a poco tempo fa i gatti si potevano tranquillamente al domesticale perché rimanevano seduti doveva fare un paio di cesti in più adesso se ne corrono in giro tranquillamente non ho capito bene sta roba è un po più difficile diciamo beccarli vabbè niente aspetta quelle sugar la su vuote o piene adesso non ricordo non ricordo se sono vuote o piene dovevo prenderle andare a riempire immagino eh sì io con due accendini però dondo vado ando vado 1 2 3 4 5 5 stacca e mezzo abbiamo fatto di smeraldi e poi mi chiedete che cosa ci faccio con la carne marcia vedi tu vedi tu e poi con loro che ci facciamo tante robe a parte scambiarlo anche per quarzo e altre robe oro non ne abbiamo mai 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 abbastanza quiz di nota che nuovo format non butto nemmeno i picconi in legno li metto nella fornace o bravo bravo così si no vabbè a chi a volte butto robe però sembra una mossa estrema mi sembra da quelli di antonio devo dire più che altro perché a magazzino è sempre utile quella roba lì ovvio come si chiamano i personaggi principali di minecraft stewin stewin e aerobrine che devo guarda antonio aspetta un attimo ma che sto facendo il pieno qua stevie aerobrine non lo so io non lo so come si chiamano steve alex dice antonio steve alex ok steve ce l'ho beccato steve l'ho beccato stevie ho chiamato stevie però e alex che è ma voi lego minecraft vi piace io volevo prendermi le riviste di lego minecraft che stanno uscendo pensate a voi a una ragazza alex ma dov'è sta ragazza scusa io non ho mai vista si può evocarla aerobrine è la leggenda cattivo di minecraft ok sì ma si può invocare sta pennacchia in euro opinion ora che pulizia che stiamo facendo personaggio femminile screen del gioco ma anche tutto il discorso delle skin cambia poi se tu hai il gioco originali se maschi e femmina mi capito beh mi sembra giusto tutto inclusivo ma deve essere inclusivo perché sennò non sarebbe il gioco più venduto al mondo insomma lo è il gioco più venduto al mondo minecraft ero bene non è mai esistito solo un creepypasta del gioco però ci sono delle modalità in cui è possibile evocarlo robe del genere teoria giusto guarda i papaveri rossi sono mille i papaveri rossi sto piantando i papaveri Antonio bravo 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 complimenti e come flexa e come flexa io mi tengo il dubbio mi diverto di più sapere che mi che mi stia osservando sempre salve buongiorno non so neanche se sia domenica o che giorno un saluto ad Antonio buongiorno buongiorno trust buongiorno che ha messo questi cosa cosa mi feriate qua sinceramente non ne avrei idea non lo so chi le ha messe le inferiate qualcuno che voleva proteggere la sua casa Antonio ma che fa ma che fa mando va è il vero jd sì sì è lui e lui certo che lui guarda qua ancora non si sono sbloccati o le nuove versioni di minecraft un periodo della mojang scriveva ero bene è stato tolto dei modi mondi microsoft le vendite sono aumentate ma dai ma veramente ciao trust questa collina dice trust ho sentito che verrà spianata ma che è impossibile impossibile spianare quella collina lì scusa un attimo ma dove sono i miei aereici nuovi niente so quello tutti bloccati ma no 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 questa collina non verrà spianata ci mancherebbe verrà rasa il suolo non verrà spianata verrà fatta esplodere dove combattere com'è prima di dovete combattere com'è prima di farlo Antonio bravo così si fa senti che bel suono dei villager le manca le manca questo suono io volevo ho bisogno di altri vabbè altri di questi chiarici dai che pian pianino si sblocca tornerò a giocare dopo il 24 gennaio come mai è andato dov'è in mogadiscio adesso che non gioca più va bene va bene va bene l'aspettiamo l'aspetteremo con ansia l'avevo molto rilassato ma che mi vede lei mi fa vedermi sì sì molto molto fin troppo lei mi vede vabbè premi shift poi premi la carne oppure premi la ricetta sì sì eh no mi sono ricordato dopo di sta cosa prima dovete passarmi sopra di me prima di farlo sembra una minaccia questa qua però è Antonio sembra una vera e proprio vera minaccia ecco qua vedi sempre premo shift ma non ne ho più che premo shift a fa adesso dov'è in burkina faso trust che non ha accesso a Antonio sta giocando col pc nuovo di babbo natale ho quello riparato proprio quale blocco che non è mai stato aggiunto su minecraft tra la cesta bloccata la slab fatta di terra e la sedia credo perché la slab fatta di terra non qualcuno mi sa ho sentito che l'avevano fatta oppure oppure mi sto sbagliando però pc quello riparato dice Antonio meno male giusto doveva essere messa però poi l'hanno tolta gli altri due si potevano trovare solo una versione pesce ad aprile ma dai è che io sono informato e cosa cosa crede cosa crede trust babbo natale ti ha fatto un recado ma ci siamo già ringraziati ma io l'avevo già ringraziata trust grazie mille per il regalo eh grazie mille per i regali a tutti ho lasciato anche io qualcosina ma penso che avevamo già viste quelle robe lì forse vogliamo gli scalini il vetro sono tipo in una caserma ma dai ma fare cosa a fare che tipo in una caserma ma che avete visto come pian pianino stiamo riempendo l'inventario di smeraldi perché va becchio a chiarare però però raga guarda che tramonto wow wow che caserma di che ma ne sembra che è molto solo rimane sempre molto vago trust è stato rapito secondo me o ha rapito qualcuno ha rapito qualche pennacchio trust eh non ce lo dica non ce lo dica ma che ora sono ma le sei ma lo fa adesso c'è una possibilità che un milione la scritta di microsoft forma in main c'è l'hat antonio ride vero vero jd vero e forse manco ce ne siamo mai accorti magari ci è successo a tutti e non se ne accorgiamo neanche e succede in un determinato contesto che adesso non ricordo quindi se ce lo può ricordare ah si è messo in autocastigo dai vizi e giochi per concentrarmi in un'altra cosa che devo fare entro ah ok ok e allora ha fatto bene ha fatto bene neanche giochi di manovella capito come sei figurati figurati non ci credo neanche se lo vedo comunque si credo sia vero jd penso che io non le so le robe io gioco a minecraft e non mi informo vero è un easter egg che hanno messo volutamente sia e sia ah è un easter egg? so che c'era un altro motivo almeno non me lo ricordo vabbè questo non sarà mai sbloccato praticamente dice fabio ma come mai sei sei qua che continui a scambiare carne e maccia per smeraldi si certo ho quasi finito la farm ma dai ma cos'è che non andava praticamente lì? cioè non ho capito è stato cambiato qualcosa tra l'altro io devo continuare anche con le con la siepe qua sta sempre qua vedi deve continuare tutta qua tata 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 chiudere tutta la farm qua ma le pecole dove stanno scusa qua ce ne sono due addirittura la pecole ne abbiamo una vede che non funziona pur essendoci le cesoie questa non taglia mai c'è su sempre senza pelo ste pecole ci vuole un alberti soli villager carici è perché non ci ho già pensato secondo lei sbattavati si può craftare la course dirt certo glielo ho detto io mi mè mammo 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 senza pelo esatto come sempre proprio vero o falso quando è uscito lego fortnite per un certo tempo nella schermata di minecraft c'è scritto non giocare a lego fortnite credo falso credo falso ancora non ci sono le pecole ok ok qua ce ne sono due però ah volevo capire che colori mancano ma come facciamo a capirlo se non ci sono che modifiche sta portando non se non se sai cosa faccio antonio io adesso però faccio un po di cesoie vengo a riempire proprio tutto di cesoie morte di amico sono grandi combattenti che combattono perché il gioco migliore infatti anche questo qua era un easter egg quindi vero ma dai sembra strano sembra strano sta cosa sembra molto strano cioè noi non l'abbiamo mai vista dice mica stai sì lo so che deve esserci un blocco verde accanto libero infatti è circondata da un libero libero perché sto pensando è circondata da blocchi liberi ma invece vabbè sì ora ce l'hanno però non è libero di fatto no ma di fare che ha sempre funzionato sta farm però a un certo punto di poi basta ok ma non so se ce l'hanno in realtà libero non so cosa intende per libero si intende così si è libero così va bene ma del secondo pronto no si è sbagliata mi perdoni eh no ma voi sono anni che mi chiamate proprio cioè per capire se questo lucio qua ma chi è questo lucio io non lo conosco io niente sono anni veramente che ogni tanto mi chiamano e buongiorno parlo con lucio parisi eh no 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 adesso dir tutto questo mi fa ma lo conosce eh attendete prego lo streamer tornerà breve momento chiamati inopportuni in cerca di vai che cacchio è sto lucio boh vabbà non ho parole no infatti non funziona proprio vedi anche antonio adesso si renderà conto è un po che sta qua e che lavora basta farm e le pecore hanno sempre il pelo cioè sono sempre senza pelo non capisco perché qualcosa è andato storto ancora non è finita che è che è è lo twist lucio è ora è in chat ora è il numero quasi uguale al tuo è capitato che a me ma chiedi il numero che hanno composto se richiamo è perché è perché non mangiano l'erba questa è un'altra domanda ho capito io che non la mangiano ma perché non la mangiano questo è il vero dilemma lei aveva i fiammiferini io no però anni fa me ne comprai qualcuno al mercatino dell'usato e perché appunto mi ricordavo di sti firmi e quindi ne ho qualcuno da collezione dovrei averlo da qualche parte ma non perché gli avessi detto è piccolo capito perché perché mi ricordo che c'è sono le pubblicità in quegli anni la e mi ero un po appassionato ne comprai qualcuno per collezione mi sa che ce l'ho da qualche parte in giro ma li ho comprati dopo ovviamente ho preso roba degli anni primi anni 90 però l'ho presa dopo se l'erba di sotto non c'è sembra logico che è stata mangiata per un testo e togli le cesoie ah dici che magari vabbè intanto aspettiamo che Antonio ancora non ha finito noi adesso sai cosa facciamo ci procuriamo un bel po' di cesoia e andiamo a riempire tutte le farm vero o falso se metto il nome johnny ad un pillager inizierà a uccidere tutti gli animali vicini e allora dipende da che mod dipende da che mod però se parliamo di così normale del no falso insomma ne abbiamo fatti di smeraldini 5 minuti vedrai lana addosso abbiamo fatti smeraldini anzi li portiamo rifugio sti smeraldi qualche dita sarà ben meglio sarà ben meglio ma non le piacciono trust perché lei non aveva visto questa piccola modifica che ho voluto fare troppo casino anche la scala per andare giù l'ho modificata non glielo neanche fatta vedere perché non vanno bene sì mi rendo conto che un po in mezzo alle scatole però è meglio che avere tutto un casino capito qua per andare giù cioè casino invece valla così fai così tac due secondi sei giù tac due secondi sei su cioè ma adesso mi dica lei perché non vanno bene falso johnny era uno che faceva parte della mojan così hanno deciso di metterlo ma scusa quindi io se adesso se metto il nome johnny a un pillager inizierà a uccidere tutti gli animali vicini ma c'è sì io adesso lo faccio lui fa sta roba ah è falso ho detto bene sì ma vada adesso proviamo e se non è vero se non è vero jd vediamo se una targhetta non ne ho non è centrata e non è di design c'è poco spazio però possiamo aggiungare l'entrata poi vedremo per ora è bello così facciamo finta da così ma che design ma che centrata ma come non è centrata va bene va benissimo così non si preoccupi johnny in vanilla ci sono due comandi con le targhette dinner bone ecco dinner bone me lo ricordavo e cebbano johnny così e non ho targhette raga sapevo anch'io che era un troll fammi controllare quassù nemmeno ma ci sono anche altri c'è dipende da le mode perché c'erano tipo tu davi un nome e mob non so tipo testa in giù ma non mi ricordo sinceramente allora adesso va la ve lo farei veramente solo per il meme non ho più niente troppo non posso neanche comprare una targhetta sempre fare serve per fare per quella multicolore no vabbè ma io voglio fare sta roba ma io voglio farla sta roba dov'è che abbiamo una targhetta qua da qualche parte facciamo così scambiamo la carne marcia per una targhetta io non ce l'ho e adesso adesso la procura vado in l'urk ricordi che la guardo della laiva dopo a dopo caro trasta dopo dopo sto aprendo ma anche la faccia una prova nel mondo in creativa potete provare tanto non funzionerà ma anche secondo me non funziona è stato piacere ricontrare anche antonio egili buone vacanze fatti tori con i compiti nel natalizio mi raccomando il piacere è tutto nostro trust grazie mille e buone buone cose a lei buone cose a lei calo mi sento anche da parte di antonio di jd allora 10 dovrebbero essermi sufficienti per acquistare qualche targhetta c'è una più che altro vediamo 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 ce n'è uno che funziona secondo me neanche uno tutti sei sbloccato no perché poi la targhetta c'è una volta che l'ho usata mica gliela posso ritogliere quindi magari cerchiamo di comprarne già due o tre per provare giusto per provare ad un pillager ora non un villager attenzione non un villager un pillager ad un pillager devo mettere il nome johnny sono johnny stecchino dobbiamo andare alla farm di ride tu ce l'hai delle targhette 20 ma siamo sicuri che funziona sta roba johnny johnny poi proviamo anche le altre inizierà a uccidere ai mob ciò 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 pillager pillager giusta mob uguale mucca pecora sì tutto tutto farm di ride andiamo a vedere andiamo a vedere ma questi sono i pillager giusto questi qua sono i pillager giusto questi qua sono i pillager giusto Ernest ma dai maar che stupidetti non è vero non è vero non dove ero con questo johnny ma i mod pacifici dove sono la ospita ma non ce ne sono infatti qua serve un raid vabbè o johnny busta johnny occhio 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 via via no 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 dio bono ma no ma dai ma dai ma dai vabbè ma vaffan brodo per ascoltare voi tra l'altro ucciso da johnny veramente veramente non ce l'ho neanche fatto caso io sta roba johnny mi ha ucciso il mio messaggio non era piaciuto no infatti maledetti non è anche più mal augurio ma meglio così guarda ok no non mi ha ucciso non mi ha ucciso cosa la johnny meno male lo provi creativa e dopo proveremo in creativa qual è il pillager amichevole quello che ha finito tutte le frecce e quello al quale tu gli hai regalato qualcosa perché io so che c'è una roba del genere che se uno è un villager finisce tutte le frecce e gli regali qualcosa non lo so antonio dice io lo so e io non posso passare in creativa cd qua con il pillager amichevole quello con lascia quindi quello con lascia bisogna basta sì ma non esistono quelli con gli assi quante ne sapete voi raga ma quante ne sapete una in più del diavolo se piovesse piovesse vorrei provare a fare creeper caricato e dopo come fa a colpire le pecole senza anni tra l'altro in un altro mondo uccide tutti gli animali che animali antonio ancora ma dai veramente serve un ride per fare cosa serve un ride pecore ma fan di pecore come sta qualche ride io non ci tornerò mai più qua tra poco perché siamo distantissimi qua da casa siamo perché mi attacca perché mi attacca mamma mia pollo pazzerello da tanto tempo si buonasera a lei si è rotto cosa si è rotto comunque fabio se dal nome grumo il mondo verrà capovolto fatto rimanere sotto sopra è anche questa roba qua ma allora quelle lì sono delle altre mod mod secondo me jd lei non capisco perché lei mi abbia voluto attaccare antonio ecco giuda voglio vedere adesso vediamo io non ne ho mai visto uno di questi qua con l'ascia sinceramente non sono proprio visto rag si gira voglio voler livello rivelato in che senso sì ma adesso ma distratto antonio però siamo pari ma col cavolo siamo pari col cavolo mi salvo la vita attenzione in questo sto 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 qua con canalizzazione veramente fa cagare ma non mi torna più indietro ci mette una vita a tornare prova in un mondo creativa sì sì ho capito però adesso non posso dammi la elitra che elitra io non ho preso elitra io non ho preso elitra che fa o come si permette io non ho preso elitra no sto scherzando ce l'ho io sì ce l'ho io l'edita la vuole aiuto ma picchiato mi ha picchiato mi ha picchiato antonio raga oh no cos'è bore da live questa roba ma che fa mi vuole seppellire aiuto aiuto mi sta seppellendo vivo no no o no no oh no mi sono perso aiuto no no ma che era se vabbè cuckoo cuckoo e voilà dai basta quando le cianci adesso mi ridiamo la mia roba per favore mi ridia le mie cose se non mi dà l'elitra sera quella se non mi dà l'elitra sera quella non sarà quella no vabbè ma allora se sera quella gliela devo ridare l'elitra perché se sera quella ecco qua se sera quella ecco a lei in altri servendo lo sa che dal nome tosti ad un coniglio aggiungerà delle macchie nella sua pellicola come passato le feste bene grazie bene non male normalmente e lei invece pazzerello pure come lei vado torno a casa io perché qua non possiamo star qua così anch'io bene e che regali avete ricevuto che regali ha ricevuto per per le feste questo babbo natale quello pozzerello lei non ha visto il mio il nostro villaggio di babbo natale best my capi di play ha visto che roba con le tramose per scappare grande che grande dio ecco adesso è stato far stato imparato perfino da un annegato è questo succede ma voi qualcuno di voi che usa da la optifine siccome anch'io l'ho installata adesso come si fa a mettere il discorso dell'erba che sempre verde e sotto la ce ne ho le cose dove scusi anche per villaggi natale che abbiamo 3 mici sì sì l'ho messa l'ho messa infatti sto facendo zoom vedi che zoom vabbè vabbè che sono un abbo ma no fino a sto punto qua l'ho messa è che non ho capito bene qualcuno mi aveva detto e si possono anche ottimizzare così laghi di meno e quella su e giù però vabbè saluti da babbo natale saluti a babbo natale pare che zoomata o che gli facciamo un buon natale possiamo vedere anche i peli del naso che storia ma che storia cioè cioè come c'è e come se c'è ma in emis giovanni giorgio va everybody call me giorgio tutto 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 questo il mio nuovo campo raga ecco datemi qualche idea voi perché io non so più cosa farci basta fine opzioni grafica qualità prato migliorato ma sta roba qua mi toglie tanta cioè come dire tante tante robe di grafica così cioè oppure via via ma perché ci sono tutti sti clip per qua ultimamente alla meson potamia o ma dove saltano fuori di sti clip faccio un po lo gigante quello spazio si è un po lo gigante ma voglio fare qualcosa di utile tipo farm e robe del genere 2 fps in meno si bene ne faccio già ne faccio 20 49 varali poi anche le informazioni di gioco sono cambiate un pochettino è perché adesso mi dice 47 di 32 prima non mi non mi diceva sta roba fatto sta che il day dopo non riusciamo più a vederlo in che giorno siamo qua peccato provalo faccio un po lo gigante hanno opzioni grafica cosa ne aveva detto opzioni grafica qualità pronto migliorato grafica qualità ma se io tolgo tutta sta roba qua guadagno rob guadagno prestazioni fonte personalizzati ma che è texture emissive te lo spiega la texture emissive sono renderizzate come copertura con massima luminosità possono essere usate come parti di luce le texture base sono supportate del pacchetto di risorse attuale ottimo fatto migliorato semplice sofisticato no cosa devo mettere patto migliorato semplice proviamo ma dai che figata così però così e figo e tanto più pieno così ma diceva non sta neanche vedendo non ti preoccupare eccolo qua vale che figata 167 50 giorni dov'è che lo legge antonio dov'è che lo legge antonio quel dato lì mi perdoni e tanto più carino così è sembra muschio infatti sembra molto più a soffice è più bello così che secondo me che non vedere la terra e proviamo sofisticato anche shaders qua avevano queste non ho in parte che avevo provato attivarle ma meglio di no meglio di no e dov'è qua qualità prato sofisticata vediamo se cambia qualcosa beh insomma cosa cambia faccio più fps addirittura ah no 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 male male così dove c'è scritto bayonne sotto ma dai ma lei legge i giorni lei legge i giorni antonio sul suo se lei fa f3 ecco perché qua noi non riusciamo più a leggerli io qua non ce l'ho più i giorni siamo a quanto 16.750 ma dai lei legge ma pensa un po non tutti gli easter egg di minecraft sono allegri nel giugno del 2022 all'età di 23 anni muore il famosissimo youtube di microtecnoblade per non dimenticarlo minecraft nella lancer ha messo un maiale con una corona raffigurando ricordando la skin di tecnoblade questa cosa non sapevo anch'io l'unica scelere complementare un bond hai provato sì ho provato però non canone è cambiato nulla tipo andavo qua grafica shaders vedi cedersi interne devo mettere fa così cedersi interne fatto 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 ma non è cambiato nulla non ne hai le scelte ma no non voglio neanche averle vada comunque quella con l'erba così tanto più figo il vetro fino all'altro giorno era tutto se si era testurizzato tutto praticamente era diventato tutto un blocco trasparente ora perché è ritornato così dato che lei sa un po di robe per non dimenticarlo certo devi provare almeno facciamo uno scherzo trasto ma non possiamo fare scarse traste mentre siamo in live antonio perché traste le live le guarda sempre e quindi dobbiamo fare uno scherzo a trust quando non siamo in live perché adesso il vetro non me lo fa più rivedere come prima un pezzo unico puoi dirmi che funziona solo con ma solo a me laggano è possibile che che sto allargando è un te lo dico subito al momento io non vedo qua grosse difficoltà fatemi sapere anche gli altri non mi sembra che stiamo allargando o stiamo allargando il vetro ricambiato altre cose oltre a migliorato può essere che ci ho messo le mani però non ne ho idea però sta sempre lì dice il discorso sempre lì non laghi grazie antonio per il feedback no infatti ho preso l'anteprima ma non mi sembra che stiamo un pochettino forse cd ma al momento no opzioni grafica qualità blocchi uniti a blocchi uniti si devo mettere infatti forse ho cambiato per sbaglio quello vediamo se sono così intelligente infatti 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 blocchi uniti era che ho cambiato per sbaglio ora bene ottimo ottimo quindi sì possiamo farlo a lei antonio adesso i vetri li vede anche lei così con la collo optifine quasi surreale è quasi surreale perché mi ha chiuso qualcosa con la terra mi scusi se dice facciamo uno scherzo la traste fa lo scherzo a me ne fa lo scherzo a me no vabbè io no dice no a chi è che è stato qua scusamente la terra comunque dai le proveremo le proveremo anche i shaders in qualche modo penso che si vadano a prendere sul belti lancia il giusto di sulle mod pack o robe del genere le installi e poi le metti da qualche parte ci proveremo anche qua ha messo terra però ma qua che sta facendo scusa sono stato io inaspettato se proprio quello che vedi tu è differente da quello che vedono altri ognuno potrebbe avere le scelere oppure altre impostazioni si è vero vero ma perché mi sta mettendo la terra qua antonio non capì logo mi ha capito già fatto casino sempre cassino non capisco no vabbè ma intrappolato no vabbè mi faceva anche segno di entrare il bello è che ma dai antonio male sembra il modo di fare ma ne sembra il modo di fare questo mi perdoni incredibile ma quante ne ha messe di ste tramoge poi meno male che dovevo devo chiudere la live vara meno male meno male guardi che bella sciallopette che antonio complimenti per la schiena salve beh ovviamente spero lei rimetterà tutto a posto con un topo sì ma chiuso proprio come un ratto vabbè dai qualche qualche smeraldino l'abbiamo farmato stavamo per svoltare con le name tag invece purtroppo c'è andata molto male questo nella porta il punto dove la gava l'altra volta sì vero vero ma la chiamo un po dappertutto c'è discorso questo punto credo di conti connessione a sto punto a connessione pc vecchio così a quindi io signori per il momento vi devo da saluta mi devo da saluta noi ci vediamo presso prima prima prova di quello della targhetta che adesso non posso creare un mondo in creativa così all'istante provare proveremo proveremo ma i nemici giovanni giorgio da everybody cosmi giorgio tutto 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 giorno e notte giorno e notte 24 ore in funzione link di telegram alessandro glielo giro io se vuole perché non credo sia esatto quello è io metto io il link di telegram facciamo così ciao caro antonio ci vediamo presto grazie mille grazie mille a tutti non si riesco a mettere il link da fabio è tutto è quasi tutto è quasi tutto adesso ce ne andiamo a prepararci da mangiare continuerò a farmare oro adesso che ho liberato che un po di spazio non ti trovo ora proprio quello aspetta un attimo giungi membri invita nel gruppo coppia eccolo qua provi questo che verrà che riuscirà a entrare con questo cosa mangia stasera pizza pizza caro mio infatti anche già troppo tardi per me per andarla a prendere a sto giro voi cosa mangiate vivano fregna tutto 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 provate questo facciamo lo screenshot per stasera questo dovrebbe essere regolare se mi sono dimenticato di fare io gli smeraldi li abbiamo portati a casa in teoria in teoria lei cosa lei cosa mangia invece caro se di pizza anche anche gd che pizza mangiati di che pizze ma è mai serve magnate io credo che prenderò bianca con quattro formaggi o salsiccia e friarielli ottono cipolla e basta e salmone la margherita senti anche 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 il villager dice funziona dice io non lo so cos'è che funziona alessandro al link lì sì sì benvenuto benvenuto questo che l'ho inviato io sì anche l'altro funziona da mi fa piacere mi fa piacere funzioni anche l'altro il secondo so sicuro salve grazie per l'invito grazie a lei benvenuto benvenuto apriamo l'altro non va infatti un po di spumante è una benedizione anche pure per l'essandro vero piacere un vero piacere quindi signori io vi ringrazio ringrazio di cuore per essere rimasti in live per averci per esserci fatti compagnia tutti quattro insieme bevi adesso vedrò in qualche modo cd pian pian se in pensione non mi ricordo più quelli fatti il nome in questo dove sono entrato è differente a vedi al nome è differente se solo con te non devi mollare abbiamo un sogno nel cuore napoli torna campione si sa che liga e d'ora dai basta alla fine non fare son dalle vocali fino a domani mattina no no papa 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 raga grazie veramente di cuore ci vediamo domani a qualche ora eventualmente ci aggiorniamo su tegan sul disco mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al canale condividete lasciate like dislike consigliate questo canale a tutti quanti i vostri amici a breve torneremo a breve festeggeremo i 500 iscritti quindi mi raccomando raga ricordatevi di splendere ma soprattutto attivate a tutte le campanelline e tutte le notifiche grazie di cuore buona giornata buona serata buona cena arrivederci a tutti quanti grazie infinite